Benvenuti su ILO Photoshop per questo nuovo appuntamento del venerdì, compito a casa, dipenderà da voi farlo funzionare, vi spiego fra un attimo di cosa si tratta. Si tratta di inviare vostri lavori a una mia mail che adesso vi inserirò qua nel video, inerenti i miei lavori, quindi concretizziamo quello che è il mio sforzo che porta avanti da anni, realizzando vostri lavori sui miei tutorial. Assegnerò ogni settimana un nuovo tutorial che sarai elencato in descrizione, anzi non un nuovo tutorial, fra i miei tutorial già esistenti, che naturalmente chi vorrà partecipare invierà alla mail che ho indicato e io commenterò questi lavori. Non saranno critiche, non vogliono essere critiche per prendere in giro le persone, ma un ulteriore appuntamento per migliorare, per crescere anche di più, sia voi che me stesso. Questo servirà a vedere che cosa combinate con i miei lavori, far vedere ad altri che cosa combinano altre persone sui miei tutorial e naturalmente ci saranno suggerimenti per migliorare, per realizzare meglio quel che avete fatto o anche semplici complimenti se non c'è niente da aggiungere. Quindi ripeto, il venerdì sarà questo nuovo appuntamento che si va ad aggiungere a quelli del sabato con i tutorial sulla fotografia, il lunedì con le idee fotografiche, il mercoledì con i tutorial creativi di Photoshop e aggiungiamo questa nuova rubrica che spero possa essere interessante e che se magari fa al caso vostro o se la ritenete interessante, mi piacerebbe che lo scriveste già qua sotto. Quindi ci sarà assegnato un tutorial ogni settimana oppure tema libero a vostra discrezione, naturalmente elaborato su quelli che sono i miei tutorial realizzati in anni e anni di perseveranza su YouTube. Grazie per l'attenzione e ci vediamo venerdì prossimo.